Arriva Ferragosto, ma che tempo ci sarà? Lo scopriamo con Manuel Mazzoleni di Trevi Meteo. Si spingeranno anche verso i 36-37 gradi. 36-37 gradi li abbiamo già visti questa settimana, cosa ci dobbiamo aspettare dalla prossima? Sì, ci sarà un cambio di rotta nel corso della prossima settimana perché i primi temporali che si appasseranno sul finire di Ferragosto sono un segnale che qualcosa cambierà, infatti arriveranno correnti più fresche dai quadranti cententrionali. Tra lunedì e martedì qualche equazione temporale transiterà sul nord Italia e quindi anche sulla nostra provincia portando un calo delle temperature con massime che scenderanno anche di una decina di gradi. Quindi si porteranno più vicine alle medie del periodo. Vi auguriamo quindi un buon Ferragosto che sarà segnato quindi da alte temperature.